Da bambino, negli anni di guerra, quando era proibito, sono stato uno dei primi ad ascoltare jazz perché è un mio cugino calciatore che giocava nella Roma nel 1942. Quando il campionato fu sospeso per essere poi ripreso nel 1946, portò a casa da Roma una pila di dischi i primi siti di musica jazz, c'era Duke Ellington, c'era Armstrong, c'era Benny Goodman e io avevo 11-12 anni che sentivo questa musica. Mi assicuro che volevo suonare la tromba, però mi ha fatto sentire il kramer e allora ho detto beh, suonata così mi piace e quindi mi sono poi deciso e ho accettato l'idea di suonare la tromba. Quindi scopo la storia stasera di questi miei inizi con Paolo Francesco nella batteria. Grazie. 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 Grazie.